Droga e alcol, queste le sostanze che si celano dietro i più gravi incidenti stradali accaduti in Valteneva e Chiavenna. A svelarlo, durante il vertice convocato in prefettura per esaminare il problema e mettere in atto le giuste contromosse, il procuratore capo di Sondio Claudio Gittardi. Dal nostro osservatorio vediamo che gli incidenti più gravi, che per fortuna non sono numerosissimi, ma comunque ci sono e colpiscono molto, sono incidenti determinati non tanto da comportamenti di guida scorretti, ma da comportamenti di guida scorretti legati all'abuso di alcol o di droghe. Lei ha lanciato una proposta che coinvolgerà gli studenti e vedrà protagonista il tribunale. Sì, nel quadro di queste iniziative sulla sicurezza stradale rivolte ai giovani, ma non soltanto ai giovani, prevediamo di poter fare una sorta di processo simulato per un fatto di omicidio stradale o di lesioni stradali, in modo di spiegare ai giovani le conseguenze dell'uso di sostanze o comunque dei comportamenti non corretti alla guida dal punto di vista degli effetti penali di questi comportamenti. L'esempio conta, dai genitori, dagli adulti devono arrivare segnali positivi, ma la realtà è ben diversa, come ha spiegato Lucia Pozzi, responsabile Unasca, associazione che riunisce le scuole guida. Noto che i ragazzi, la domanda che ti fanno più spesso è, è vero, io fino all'esame di guida sicuramente dovrò fare gli stop, dovrò far passare i pedoni, non passo col giallo, tutte queste cose che noi ovviamente dal codice della strada dobbiamo loro insegnare, però come faccio? Mio papà, mia mamma, mia zia, mia cugina, tutti quelli che vedo guidare queste cose non le fanno normalmente, addirittura quando vado a guidare con loro, si arrabbiano perché vado piano, perché mi fermo allo stop, perché faccio passare tutti i pedoni. Come facciamo? Chiediamoci come facciamo con i ragazzi a insegnare loro le cose, se poi la nostra esperienza, cioè passare dalla regola alla cosa pratica, non funziona. I corsi di guida sicura sono importanti perché consentono di padroneggiare meglio l'auto, anche in condizioni metoavverse. La scuola è uno degli ambiti più idonei per diffondere la cultura della sicurezza stradale, ma sono anche allo studio incontri negli oratori tenute dalle forze dell'ordine. Iniziare un progetto con una notevole valenza educativa al fine di infrenare i maggiori fenomeni di incidentalità stradale, coinvolgendo tutti i soggetti, sia i soggetti istituzionali che i soggetti appartenenti al cosiddetto terzo settore. In un progetto ideale le forze dell'ordine e altri soggetti al fine di fare un'opera educativa più complessiva.